Oggi parliamo di strudel. Lo strudel è un dolce sportivo quindi molto adatto a una merenda ma perché no anche un fine pranzo. Lo strudel ha una forma di rotolo quindi bisogna stare molto attenti a presentarlo in un piatto giusto. Questo piatto giusto deve essere rettangolare perché facilita anche il taglio. Quanto al materiale scegliete il cristallo scegliete l'argento scegliete del materiale nuovo vitrificato va tutto bene. Quanto al servirlo ricordiamoci di una cosa che lo strudel va sempre servito con della panna a parte ma la panna deve essere non dolcificata e soprattutto abbondante.